Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Bologna, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, in carreggiato opposta rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Scandicci e il Bivio con la Firenze Mare. In a 11, coda e attratti per traffico tra Prato Ovest e Bivio 11 e 1 e per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Tutto in direzione di Firenze. Ci spostiamo in FIPD per viabilità esterna che non riceve, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiato opposta, coda in uscita a Scandicci. Prima di salutarci, informiamo che è stata prorogata fino al 18 gennaio l'ordinanza anti-smog a Firenze e nei comuni dell'agglomerato urbano con limitazioni o blocchi ai mezzi più inquinanti. Oversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!